C'è anche la località Rocca di Borgo Ammozzano nelle bellezze da scoprire per le giornate del FAI del prossimo fine settimana. Giornate dedicate alle visite e quindi alla conoscenza di luoghi o monumenti interessanti quanto spesso poco conosciuti. Tra le altre località della provincia ci sarà dunque il suggestivo scenario di Rocca con la sua chiesa e una storia ultramillenaria. Sabato 14 e domenica 15 ottobre le giornate del FAI d'autunno porteranno tanti visitatori a conoscere questo importante baluardo storico che vigilava l'ingresso nella Valle del Serchio. Il programma nei particolari è stato presentato alla stampa nella sala consigliare di Borgo Ammozzano e il primo cittadino Patrizia Andreucetti ha sottolineato la bella opportunità di far conoscere Rocca. Grande soddisfazione per due giornate del FAI nel comune di Borgo Ammozzano 14 e 15 ottobre nel paese di Rocca dove c'è una copia autentica della Sindone e dove le persone potranno visitare i resti della Rocca dei Suffredinghi e quella che è la chiesa lì del 1100. Quindi un modo per valorizzare il nostro territorio, per farlo conoscere e far sì che la bellezza anche dei piccoli luoghi sia al centro della visibilità. Presente all'incontro Lucilla Benvenuti per il FAI, Don Francesco Maccari, Bruno Papera in rappresentanza del Comitato Paesano e Silvia Valentini che ci anticipa alcuni buoni motivi per visitare Rocca. Non si deve perdere il borgo più antico di Borgo Ammozzano, la località in assoluto che sia mantenuta nell'aspetto medievale perché la strada finisce lì e sia mantenuta con la sua Rocca, la sua chiesa e il suo paesaggio completamente medievale.